In funzione dall'11 aprile l'UCCP di Teramo oggi, dopo pochi mesi dall'apertura, perde 10 medici che abbandonano il progetto. Cosa accade adesso? Allora, tecnicamente diciamo che ci dispiace, però accade poco. L'UCCP continua a funzionare, noi siamo operativi, addirittura come referente garantisco l'operatività anche con 12 medici, forzando un pochettino. Ne siamo 24 del mio gruppo, più ne sono rimasti una decina dell'altro, quindi con oltre 30 medici possiamo funzionare benissimo. Ci dispiace perché se n'è andato, perché non ha creduto nel progetto e il progetto è estremamente importante. La ASL ha investito molto ed è un servizio per i cittadini di primo livello. Ecco, spieghiamo come funziona tecnicamente. È un posto medico con due medici di famiglia 8-20 dal lunedì al sabato, in cui le persone cittadini accedono, hanno un medico sempre a disposizione, anche quando il loro in ambulatorio non c'è e quindi vengono visitati e si fanno le prescrizioni nel regime mutualistico tranquillamente. C'è una collaborazione con gli specialisti che sta andando avanti, c'è la collaborazione con le altre strutture, quindi è un servizio importantissimo che non deve e non può scomparire. In ogni caso abbiamo creato anche 20 posti di lavoro per il personale infermieristico e amministrativo, quindi in un momento di crisi non è poco. Che noi guadagniamo poco o quasi niente è poco rilevante. diamo un po' delle nostre ore di tempo e lo diamo per i cittadini. Le persone invece accendono al pronto soccorso per una visita semplice, non complessa, non parliamo del cardiopatico ischemico, non parliamo dei grossi traumi, ma le visite, quelli che vengono tecnicamente chiamati i codici bianchi, quelli possono accedere tranquillamente da noi. Smaltiamo tutto il pronto soccorso e quindi diamo un servizio sia in agilità al pronto soccorso che le persone che hanno bisogno aspettano ore e spesso vanno via.